Hai mai fatto un primo tempo il migliore tuo di questa stagione? No, penso che abbiamo fatto un grande primo tempo tutta la squadra, quindi quando tutta la squadra fa bene è più facile giocare. Ti è mancato il gol, ci sei andato vicino con il palo, hai regalato un assist a Merola, hai fatto due o tre accelerate delle tue sulla fiscorsia di sinistra, aiutato secondo me da Milani che ora sta facendo quello che chiede Zeman, cioè ti crea lo spazio con le sue sovrapposizioni. Sì, come già avevo detto l'altra volta stiamo imparando bene i meccanismi del mister, quindi noi esterni abbiamo tanto spazio quando passiamo dall'esterno all'altro, quindi dobbiamo cercare di continuare a lavorare così e migliorare sempre di più. Ti chiedo, chiaramente il calcio zemaniano necessita di una condizione atletica non al 100%, al 110%, quanto vi manca per arrivare a quel 110% e quanto state lavorando con Zeman sotto questo punto di vista? No, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene e secondo me comunque già il ritmo durante la partita si vede che comunque stiamo bene, l'importante come ho detto prima è cercare di migliorare e dare sempre il massimo. Senno di poi, per fortuna che non si è fatta l'operazione con il Crotone? Sì, sono contento comunque di essere rimasto qua e di avere in questo momento un po' più di continuità, quindi devo sfruttare le mie occasioni e darmi da fare.